Isola dei famosi, brutte notizie per Vladimir Luxuria. Mediaset ha preso una decisione proprio sul famoso reality. Scopriamo, dunque, di seguito, maggiori informazioni in merito, e tutto quello che sappiamo al riguardo. Isola dei famosi, ci sono brutte notizie per Vladimir Luxuria. Ecco che cosa ha deciso Mediaset sul reality in onda proprio su canale 5. Con l'arrivo del mese di maggio, naturalmente, ci saranno delle belle novità in corso. Scopriamo, tutto quello che c'è da sapere. Sicuramente, bisogna dire che il programma capitanato da Vladimir Luxuria, almeno per il momento non è partito proprio col botto. Gli ascolti, certo, non sono bassissimi, ma neanche alti come ci si sarebbe aspettati, soprattutto dopo un cambio conduzione. Le stroncature, spesso tramite social, sono anche parecchie. Inoltre, molti concorrenti si sono ritirati nelle ultime settimane, e questo ha portato il pubblico a criticare ancora di più tutta l'organizzazione che c'è dietro il reality. Isola dei famosi, brutte notizie per Luxuria. La decisione Mediaset sul reality. Da tempo si parlava proprio di un ritorno di Io Canto, con un sorta di spin-off che si chiamerà proprio Io Canto Family, e sarà capitanato da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Precedentemente non c'era ancora una data ufficiale, ma ora pare proprio essere arrivata. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, lo show della Hunziker e di Scotti andrà in onda il lunedì, prendendo il posto dell'Isola dei famosi. Mentre per quanto riguarda quest'ultimo, sarà slittato al martedì. Il fatto che un programma venga slittato, e dunque cambi il suo giorno nei palinsesti, ha un significato ben preciso di solito, ossia che non sta facendo grandi numeri. In ogni caso, non ci resta che attendere di scoprire gli ascolti tv della giornata di domani per capire se questa sera salirà per quanto riguarda il numero di spettatori e lo share. Non dimentichiamo, infatti, che andrà in onda stasera su Canale 5 contro lo show di Roberto Bolle, Viva la Danza su Rai 1. Le ultime indiscrezioni, inoltre, parlano anche di una data d'inizio per quanto riguarda Io Canto Family, ossia lunedì 13 maggio. In questo modo, dunque, va a prendere definitivamente il posto dell'Isola, che invece andrà in onda comunque regolarmente il martedì, nonostante tutto. Stando alle prime anticipazioni, il cast di Io Canto vedrà alcune novità. Sicuramente da un lato ci sono state delle conferme, vale a dire la giuria che ha accompagnato i talenti nel programma precedente. Rivedremo, quindi, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Mietta e Iva Zanicchi. La grande novità consiste nella presenza di Fabio Rovazzi, sempre in giuria.